Cosa avviene durante la prima telefonata con uno psicologo? La telefonata è il primo contatto in assoluto che solitamente avviene tra paziente e psicoterapeuta. Può essere che il paziente magari compili un form sul sito piuttosto che invii un'email, invii un messaggio, questa cosa capita sempre più di frequente, però il primo contatto vero, quello che già ha un primo fine terapeutico è proprio la telefonata. Io personalmente, indipendentemente dall'avere già fissato meno un appuntamento, dedico sempre una decina di minuti circa a fare appunto questa telefonata in modo tale da raccogliere le informazioni che mi servono e rendere da subito efficace il primo intervento, il primo incontro. Questa segue una struttura particolare, ossia durante la telefonata è necessario raccogliere informazioni specifiche, quindi diciamo che nonostante ci sia poi la storia appunto, il motivo per cui la persona chiede aiuto, che va a caratterizzare e personificare appunto la situazione nello specifico, al tempo stesso però la struttura, la scaletta che la telefonata assume può essere riassunta in una serie di punti che adesso ti vado ad illustrare. Il primo innanzitutto è cercare di capire, chiedere appunto alla persona, qual è il motivo per cui richiede una consulenza, per cui richiede un appuntamento, quindi cosa sta attraversando, qual è la difficoltà che si trova a vivere, cos'è che l'ha portata ad un certo punto della sua vita ad alzare il telefono e chiedere aiuto ad un professionista. Molte persone si trovano magari spiazzate, alcune possono trovarsi in difficoltà legate magari all'imbarazzo di parlare con una persona che non conoscono, che appunto non hanno mai visto di persona e altre invece si trovano un pochino più a loro agio, riescono da subito ad esprimere qual è il loro disagio. Di fatto questo dipende sia dalle caratteristiche personali appunto di chi chiede aiuto, ma al tempo stesso anche dalla capacità dello psicologo di mettere già a proprio agio la persona dall'altro capo del telefono. Al tempo stesso c'è una variabile, una componente che è anche legata alla difficoltà appunto che la persona sta vivendo e quindi ci possono essere delle difficoltà che debbano essere trattate magari direttamente di persona, casi molto particolari eccetera. Comunque si parte sempre dal capire che cosa sta succedendo, o meglio mi spieghi qual è il motivo per cui chiede aiuto, che cosa sta succedendo in modo tale che poi io a mia volta riesco a spiegare come posso essere utile e qual è la metodologia di lavoro. Il secondo step, il secondo passaggio fondamentale è quello di chiedere tutte quelle informazioni che al di là del problema specifico, quindi del motivo per cui la persona chiede una consulenza, caratterizzano e danno tutta una serie di informazioni sulla persona stessa. Ad esempio quanti anni ha, se è sposata, se è single eccetera, il lavoro che svolge, se ha figli eccetera eccetera. Quindi tutte quelle domande che in un qualche modo permettono di andare a comporre, inserire dettagli ed informazioni utili nella fotografia, appunto nella scheda che si cerca di creare della persona che non si è mai vista ma che da lì a poco appunto si incontrerà per il primo colloquio. Successivamente c'è una fase in cui si capisce, si chiede, si domanda se la persona ha già svolto, ad esempio dei percorsi in passato, se si è rivolta a psicoterapeuti, a psicologi, a psichiatri, altri tipi di professionisti che hanno a che fare comunque con il problema che sta presentando. Ad esempio se una donna con un problema sessuale si è già rivolta ad esempio a un ginecologo, piuttosto che un uomo con un problema sessuale si è rivolto ad esempio ad un andrologo, ad un urologo. Quindi capire qual è stato l'iter dei tentativi di cura appunto che la persona ha agito, situazione specifica. In ultimo c'è la spiegazione, lato mio quindi da parte mia, di come funziona il lavoro con me, di quali sono le caratteristiche appunto che lo costituiscono e di quali possono essere i tempi. Quindi solitamente ci si concentra sulla fase di consultazione, che ho già spiegato in diversi video, in cui viene fatto il punto su cosa sta succedendo, su quali sono le cause e su cosa può essere fatto per poter risolvere il problema. Questa è la struttura che solitamente viene data alla telefonata ed è dal mio punto di vista una componente molto molto importante per riuscire ad innescare subito una relazione con la persona. Innanzitutto per quanto riguarda dal punto di vista del terapeuta, la possibilità di ottenere delle informazioni utili che permettono già di prepararsi con delle domande, con un ragionamento al primo incontro, quindi non arrivare spiazzati a tabula rasa e dire bene mi racconti qual è il problema, ma già poter raccogliere le prime informazioni di base. Lato pazienti invece dal mio punto di vista è particolarmente utile perché permette in un momento comunque di importante carica anche emotiva perché è il momento in cui alzano il telefono e chiedono un aiuto di in un qualche modo essere accolti, quindi esprimere qual è la loro difficoltà, già poter verbalizzare appunto il problema. Questa è la struttura che viene data alla telefonata che è un elemento fondamentale sempre per quanto riguarda la psicoterapia, è il primo passo appunto all'interno della stanza di terapia.